L'Iside svelata di Madame Blavatsky Nei più antichi documenti in nostro possesso, i veda e le più remote leggi di mano, troviamo molti miti e riti magici praticati e permessi dai bramani. Il Tibet, il Giappone e la Cina insegnano oggi quello che era stato insegnato dai più antichi caldei. Il clero di queste regioni dà inoltre la prova di ciò che insegna e cioè che la pratica della purezza fisica e morale e di certe austerità sviluppa il potere vitale dell'anima per raggiungere la propria illuminazione. Permettendo all'uomo di controllare il suo spirito immortale, gli dà poteri veramente magici sugli spiriti elementari a lui inferiori. Nell'Occidente troviamo che la magia ha un'antichità ma non meno remota che in Oriente. I druidi della Gran Bretagna la praticavano nelle cripte silenziose delle loro profonde caverne e Plinio dedica molti capitoli alla sapienza dei capi decelti. I semoti o druidi delle Gallie esponevano le scienze fisiche non meno di quelle spirituali. insegnavano i segreti dell'universo, l'armonioso progresso dei corpi celesti, la formazione della terra e soprattutto l'immortalità dell'anima. Nei loro boschi sacri, accademie naturali costruite dalla mano dell'architetto invisibile, gli iniziati si radunavano nell'ora tranquilla di mezzanotte per imparare ciò che l'uomo era stato e ciò che sarebbe divenuto. Non avevano bisogno di illuminazione artificiale né di gas malsano per rischiarare i loro templi perché la casta dea della notte gettava ai suoi più argenti i raggi sulle loro teste coronate di foglie di quercia e i loro bardi vestiti di bianco sapevano come conversare con la solitaria regina della volta stellata. Sul morto suolo del passato lontano si levano le loro querce sacre, oggi disseccate e spogliate del loro significato spirituale dal velenoso soffio del materialismo. Ma per lo studioso delle scienze occulte la loro vegetazione è ancora verde e lussureggiante e piena di profonde e sacre verità, come nel momento in cui l'arci druido operava le sue cure magiche e, afferrando il ramo di vischio, lo staccava dalla quercia madre con la falce d'oro. La magia è vecchia come l'uomo. È impossibile indicare il tempo in cui affiorò all'esistenza come lo è indicare il giorno in cui nacque il primo uomo. Ogni volta che uno scrittore ha voluto collegare il suo primo apparire in un paese con qualche personaggio storico, ulteriori ricerche hanno dimostrato l'infondatezza della sua tesi. Molti hanno pensato che Odino, sacerdote e monarca scandinavo, abbia dato origine alla pratica della magia una settantina di anni avanti Cristo, ma fu facilmente dimostrato che i misteriosi riti delle sacerdotesse chiamate Voiler o Vala erano molto anteriori a quest'epoca. Alcuni autori moderni hanno cercato di provare che Zoroastro fu il fondatore della magia, essendo il fondatore della religione dei magi. Ammiano Marcellino, Arnovio, Plinio ed altri storici antichi hanno dimostrato in modo conclusivo che egli fu solo un riformatore della magia praticata dai caldei e dagli egiziani. I maggiori maestri di teologia concordano nel pensare che quasi tutti i libri antichi furono scritti simbolicamente e in un linguaggio intelligibile solo all'iniziato. Lo schizzo biografico di Apollonio di Tiana ce ne dà un esempio. Come ogni cabalista sa, esso abbraccia tutta la filosofia ermetica, facendo, per più rispetti, da controparte alle tradizioni a noi giunte del re Salomone. Sembra un racconto di fate, ma come nel caso di Salomone, a volte i fatti e gli eventi storici sono presentati al mondo sotto i colori di una fiaba. Il viaggio in India rappresenta allegoricamente le prove di un neofita. I suoi lunghi discorsi con i bramani, i loro saggi consigli e i dialoghi con il corinzio Menippo, sebbene interpretati, ci offrono il catechismo esoterico. La sua visita all'impero dei saggi e l'intervista con il loro sovrano Iarca, l'oracolo di Amphiarao, spiega simbolicamente molti dogmi segreti di Ermete. Se capiti, svelerebbero alcuni dei più importanti segreti della natura. Eliphas Levi mette in rilievo la grande rassomiglianza esistente fra il re Iarca e il filosofo Hiram, da cui Salomone ottenne i cedri del Libano e l'oro di Ofir. Vorremmo sapere se i massoni moderni, compresi i grandi conferenzieri e i più intelligenti artigiani delle loggie importanti, capiscono chi era Hiram, di cui complottano per vendicare la morte. Mettendo da parte i puramente metafisici insegnamenti della Kabbalah, se qualcuno volesse dedicarsi solo all'occultismo fisico, la cosiddetta branca della terapeutica, i risultati potrebbero essere utili ad alcune delle nostre scienze moderne come la chimica e la medicina. Il professor Draper dice «A volte, non senza sorpresa, incontriamo idee che ci lusinghiamo di aver visto nascere nella nostra epoca». Questa osservazione, fatta a proposito degli scritti scientifici dei saraceni, si potrebbe applicare anche meglio ai più segreti trattati degli antichi. La medicina moderna, mentre ha guadagnato molto nell'anatomia, nella fisiologia, nella patologia ed anche nella terapeutica, ha perso immensamente per la sua angustia spirituale, per il suo rigido materialismo, per il suo dogmatismo settario. Una scuola, nella sua miopia, ignora completamente ciò che ha insegnato da altre scuole e tutte sono unite nell'ignorare ogni grande concezione dell'uomo e della natura, come quelle sviluppate dal mesmerismo o dagli esperimenti americani sul cervello, ogni principio che non sia conforme ad uno stolido materialismo. Bisognerebbe convocare i medici rivali delle varie e diverse scuole per mettere insieme le attuali nozioni della scienza medica. E troppo spesso accade che, dopo che i migliori praticanti hanno esaurito in vano la loro arte su un paziente, un mesmerista o un medium guaritore operi la cura. Gli studiosi dell'antica letteratura medica, dal tempo di Ippocrate a quello di Paracelso e Van Helmont, troveranno un vasto numero di fatti fisiologici e psicologici ben attestati, dei mezzi curativi e dei farmaci atti a guarire che i medici moderni rifiutano sdegnosamente di impiegare. Anche per quel che riguarda la chirurgia, i praticanti moderni hanno confessato umilmente e pubblicamente la loro totale impossibilità di avvicinarsi alla meravigliosa abilità mostrata dagli antichi egiziani nell'arte del bendaggio. Le molte centinaia di metri di vende che avvolgono una mummia dalle orecchie ad ogni distinto dito dei piedi sono state studiate dai principali chirurghi di Parigi, i quali, pur col modello dinanzi agli occhi, non sono riusciti a fare nulla di simile. Nella raccolta egittologica di Abbott a New York si possono vedere numerose prove dell'abilità degli antichi in vari lavori manuali, fra le altre l'arte dei merletti. E poiché gli indizi della varietà femminile vanno di pari passo con quelli della forza maschile. Vi sono anche esempi di capelli posticci e di ornamenti d'oro di vario genere. La tribuna di New York, nel considerare contenuti del papiro Evers, dice In vero, non vi è nulla di nuovo sotto il sole. I capitoli 65, 66, 79 e 89 mostrano che le lozioni per rafforzare i capelli, le tinture, i calmanti, gli izetticidi erano in voga 3.400 anni fa. Quanto poche delle pretese scoperte recenti siano in realtà nuove e quante appartengono agli antichi è stato chiaramente e eloquentemente mostrato, sebbene solo in parte, dal nostro eminente scrittore e pensatore, il professor Draper. Il suo conflitto fra la religione e la scienza, un grande libro con un bruttissimo titolo, pullula di fatti analoghi. A pagina 13, egli cita alcune scoperte degli antichi studiosi che suscitarono l'ammirazione di tutta la Grecia. In Babilonia fu fatta una serie di osservazioni astronomiche caldee che risaliva a 1903 anni addietro. Fu inviata da Callistene ad Aristotele. Tolomeo, il suo mastronomo egiziano, possedeva un'opera babilonese sull'eclissi che risaliva a 747 anni prima della nostra era. Come il professor Draper fa giustamente notare, sono state necessarie lunghe e minuziose osservazioni prima che alcuni di questi risultati astronomici, giunti fino a noi, abbiano potuto essere controllati. E prosegue. Così i babilonesi avevano stabilito la lunghezza di un anno tropicale con un'approssimazione di 25 secondi e la loro stima dell'anno siderale eccedeva solo di due minuti. Avevano scoperto la precessione degli equinozi, conoscevano le cause dell'eclissi e, con l'aiuto del loro ciclo chiamato Saros, potevano predirle. La loro stima del valore di questo ciclo, che è più di 6585 giorni, si discostava dall'esattezza solo di 19 minuti e mezzo. Fatti simili forniscono la prova incontrovertibile della pazienza e dell'abilità con cui l'astronomia era stata coltivata in Mesopotamia e che, pur con mezzi strumentali molto inadeguati, aveva raggiunto una perfezione considerevole. Quegli antichi osservatori avevano fatto un catalogo delle stelle e avevano diviso lo zodiaco in 12 segni. Avevano diviso il giorno in 12 ore e così pure la notte. Come dice Aristotele, si erano dedicati per lungo tempo all'osservazione dell'occultamento degli astri da parte della Luna. Avevano idee esatte sulla struttura del sistema solare e conoscevano l'ordine della posizione dei pianeti. Avevano costruito orologi solari, clessidre, astrolabi e gnomoni. Parlando del mondo delle verità eterne, che risiede entro il mondo delle illusioni transitorie e delle non realtà, il professor Draper dice «quel mondo non sarà scoperto attraverso le vane tradizioni che hanno portato fino a noi l'opinione degli uomini che vivevano all'alba della civiltà, né nei sogni dei mistici che pensavano di essere ispirati». Ma sarà scoperto dalle investigazioni della geometria e interrogando praticamente la natura. Esatto, la conclusione non avrebbe potuto essere meglio espressa. Questo scrittore eloquente ci dice una verità profonda, tuttavia non ci dice l'intera verità, perché non la conosce. Egli non ha descritto la natura, né la portata delle conoscenze impartite nei misteri. Nessun popolo successivo è stato versato in geometria come costruttori delle piramidi e di altri monumenti titanici antidiluviani e post-diluviani. D'altra parte, nessuno li ha mai eguagliati nell'interrogare praticamente la natura.